Abbiamo argomento stamattina a Bergamo nella chiesa di San Bartolomeo il vescovo Monsignor Francesco Beschi ha ufficiato il precetto pasquale per le forze armate e di polizia. Alla funzione religiosa oltre al comandante dell'accademia della guardia di finanza generale di brigata Michele Calandro erano presenti il prefetto di Bergamo Camillo Andreana, i vertici delle istituzioni locali della magistratura delle forze armate e di polizia. Hanno partecipato inoltre gli ufficiali, il personale, tutti i frequentatori dei corsi dell'accademia.